La duchessa di Sussex è stata vista godersi una serata fuori guardando Beyoncé. Ma era un indizio su quali potrebbero essere i suoi prossimi passi? Meghan Markle è stata avvistata mentre si godeva un concerto di Beyoncé, a pochi metri dal CEO di Netflix Ted Sarandos, e da sua moglie Nicole Ava, in quella che i fan hanno suggerito avrebbe potuto essere più una gita d'affari che di piacere. Nelle foto dello spettacolo di Beyoncé allo Stadio Sophie in California di lunedì sera, si vede Meghan ballare e chiacchierare mentre è seduta accanto al signor Sarandos e alla signora Ava. Tra gli argomenti di conversazione avrebbe potuto esserci il marito di Meghan, il principe Harry, il cui nuovo documentario sugli Invictus Games, è recentemente apparso sulla piattaforma di streaming. Anche se il documentario è stato visto come un flop non riuscendo a entrare nella top 10 di Netflix, né nel Regno Unito né negli Stati Uniti, Meghan ha ottenuto altri successi su Netflix. Tra questi c'era il dramma legale Suits, che ha contribuito a rendere Meghan una delle star televisive più riconoscibili al mondo. Suits ha visto una ripresa nei mesi di giugno e luglio, dopo aver raggiunto 3,14 miliardi di minuti di visualizzazione in sette giorni. È emerso che i dirigenti di Netflix hanno pagato 3 milioni di sterline per i diritti cinematografici di un romanzo romantico che Meghan e Harry produrranno. I rapporti originariamente ipotizzavano che i Sussex pagassero personalmente per i diritti di Meet Mead e Lache di Carly Fortune. Ma un insider ha affermato a Page Six, che Netflix ha effettivamente acquistato i diritti per i Sussex, per produrlo sotto la loro società Archival Productions. Adam Brannon, un esperto di cinema e fondatore di Movie Metropolis, ha detto a FMIL che il film potrebbe diventare un grande successo per Netflix. Ha dichiarato, c'è il potenziale per Meet Mead Lache di diventare uno dei film più popolari di Netflix, unendosi a titoli del calibro di Red Notice, The Adam Project, Purple Arts ed Extraction.